vediamo un po' allora ho cambiato ho cambiato un po' i comandi quindi adesso sono invertiti non prende bene il gps qua prende l'is gps l'is 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 allora in sta zona c'è massima altezza gps l'is non so se è inquadrato giusto del cazzo si chiama dalla telechiameria che ho sulla testa spero di sì è un segnale debole ecco dio merda l'is torna a funzionare l'is 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 sono tipo in una conca quindi la torna un po' malino segnale l'is Grazie. Niente, ci sono in mezzo troppe merde e probabilmente c'è la neve che non aiuta, quindi il... Non torna più. Ah, perché era troppo in alto, ok. Ok. Ah, sono proprio qua sopra. Bene. In teoria... Faccio così. Oh, cazzo. No, no, no. Ci sono gli alberi. Ok. Atterriamo in modalità manuale, va. Ok. Vediamo un po'. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.